Salve a tutti e bentornati a From America with Love, il podcast che parla di politica e cultura generale sul paese più potente e influente del mondo. Qui come oggi abbiamo Massimiliano Montorsi. Oggi vorremmo parlare dell'assicurazione sanitaria in America e del come mai succedono eventi particolari che ormai sono anche dentro le cronache e meme di internet pure, come quello del persona tot viene trovata mezza dissanguata alla metro e avevano provato a chiamare l'ambulanza ma l'avevano rimata indietro perché diceva non me la copre. Sì, dunque, il momento della scuola sanitaria americana è una cosa un po' particolare perché si esce in un contesto... Cioè cosa costringe le persone a dover rifiutare un'ambulanza? Ovviamente il punto è che l'amministrazione della sanità in America è pagata, è privata, quindi è pagata ai cittadini in maniera diretta tramite le loro spese, quindi non tramite le tasse come per esempio in Europa o negli altri paesi in generale. In tutti i paesi in realtà tra gli Stati Uniti e altri, ma vado a Sean Perry. Ma dobbiamo capire alcune cose. Prima di tutto dobbiamo capire che c'è una differenza tra il sistema che può essere magari americano, che è un sistema che è interamente appassato sulle assicurazioni, è un sistema come quello per esempio, non so, Svizzero, appassato sulle assicurazioni anche quello, sì, però ha un sistema molto diverso, quelle assicurazioni sono obbligatorie e cose del genere. E quello americano dove specialmente prima della riforma di Obama era molto diverso. Dunque, se mi puoi magari facendo un escursus da come si è evoluto il sistema sanitario americano, o il non sistema fondamentalmente statale americano. Sì, dunque, dobbiamo capire che da sempre gli americani hanno uno spirito, diciamo che la politica americana ha avuto uno spirito molto più liberista di quella europea. E già quando negli anni 60 si è iniziato a parlare con Lyndon Johnson della sanità pubblica, gratuita, quindi si parlava, se mi ricordo male, di indigenti, quindi persone molto povere, che erano tipo madri, o tipo disabili, o bambini. Le persone ai margini della società. Cioè, perché erano le persone più fuori che puoi immaginare, tipo gente che non c'è da fare niente. O un altro sistema che era stato ideato per le persone che hanno un'età avanzata, perché quelle assicurazioni non le avrebbero mai, non avrebbero fatto un prezzo ragionale, perché ovviamente avendo raggiunto gli 80 anni non è che puoi fare molto. Infatti adesso, se hai più di 65 anni, non c'è l'assicurazione privata che ti copre. Un sistema diverso si chiama Medicare. E in questo punto ha le sue origini negli anni 60. Ok, ok. E una cosa interessante... Con la Great Society di Lydon B. Jones. Esatto, esatto. E' una delle misure della Great Society. Una di quelle che forse ha avuto un maggiore impatto, tra l'altro. Ma se andate a vedere dietro a quegli anni, ci sono degli audio di persone come Ronald Reagan, che poi diventeranno appunto molto importanti, ovviamente, così. Il Repubblicano. Che parlavano di come questo fosse letteralmente il marxismo. Ah, ok. Proprio letteralmente. Sì, sì. Questa è letteralmente l'Unione Sovietica, ragazzi. Non è così. Erano convintissimi di questa cosa. A me i politici, da quasi senza, non so quanto fossero convinti, però. Per far capire un po' lo spirito... Tra l'altro un periodo in cui politici come Reagan non venivano dai posti che attualmente oggi associamo ai repubblicani come Centro America, ma venivano dalla California, tipo Reagan. Un tempo l'America era un po' più, diciamo, era, di visita in me, era un po' diversa. Oggi è la California, democratica, hippie, così. Sì, sì, sì. È una creazione degli anni 60-70, non è? Esatto, esatto. Prima invece era tutta altra roba. Adesso è molto diversa la situazione. Ma al tempo era percepita in questa maniera. Quindi far capire quanto era diversa situazione in Italia, qualche anno dopo, si creò il sistema internazionale che abbiamo già adesso. Ma così anche nel resto d'Europa. Cioè nel senso... Sì, dagli inglesi che furono i primi negli anni 20 e poi dopo... Sì, esatto. Far capire quanto noi abbiamo avuto una strada diversa. Ora, è importante capire che in America ci sono stati molti problemi, sono stati causati dal fatto che l'assicurazione... Cioè, sì, c'è il problema ovviamente del fatto che le persone non riescono a pagare perché sono troppo poveri, non hanno i soldi, così. Ma è un problema un pochino più profondo, perché... Cioè, tu non è che puoi obbligare qualcuno, ok? Non è che puoi obbligare un'assicurazione a coprire le persone che stanno male. Sì, perché altrimenti sarebbe... Oppressione satana. Cioè, quello che succederebbe è come obbligare l'assicurazione, non so, contro gli incendi a prendere chiunque vada lì. Se arriva il tizio che è il piroma, ne sai che c'è il fuoco a tutto, ovviamente non puoi fargli un'assicurazione ragionevole. E questo ha causato molti problemi, perché ovviamente molte persone che erano nate, quindi senza colpa loro, no? Quindi erano nate con, non so, malattie debilitanti, problemi simili, erano essenzialmente fregati, perché o venivano coperte da assicurazioni che ovviamente non avevano nulla a che fare con la sua malattia, che era la principale, che ovviamente, cioè, immaginavano una cosa del genere, o erano fregati per altre ragioni. Ma pensa che prima, all'inizio del 2000, quando finì il progetto di un uomo umano, già le assicurazioni pensavano utilizzare i dadi sul DNA per far pagare diversamente in base a quello. Ah, beh... Ho letto un libro riguardo, fatto di cifre, riguardo a un anno particolare. Diciamo che, cioè, è un sistema che uno potrebbe anche pensare, beh, vabbè, può avere senso, no? Perché non so, se fumi, se sei più a rischio così, se fai sport estremi, paghi di più. Sì, l'efficienza economica è applicata sostanzialmente all'assicurazione. E in teoria, sì, c'è una logica per fare questo. Però, in pratica, quello che succedeva era che poiché molte persone, appunto, erano sfortunate per varie ragioni e non ne erano fregate. Sì, nascere tipo con la carenza di insulina non è colpa loro. Sì, ma è cosa più semplice, perché l'assicurazione, per loro natura, ne operano sempre a non pagare. Solo che, visto i prezzi che la sanità in America, che sono assurdi, che in parte è l'altro che causate anche dalle assurazioni, perché hanno accordi sotto banco con gli ospedali per prezzi di favore di alcune assurazioni. In questa maniera, di fatto, se tu vai in un ospedale senza un'assicurazione, o senza essere nel network dell'assicurazione, quello che succede è che tu vieni, tipo, vieni, ti danno un prezzo, tipo, di quello, un costo di quello che devi pagare, che è una roba oscena. Tipo, è due volte più alto quello che pagare un'assicurazione. Ah, ok, appostitamente per convenzionare. Esatto, esatto, è proprio un sistema che, cioè, è fatto per fregarti se non sei copervo o con qualunque ragione. Perché comunque, meglio parlare con l'assicurazione tra di noi, che ci capiamo, piuttosto che con poveri, malati. Ma sì, ma sì, praticamente viene a pensare a una cosa del genere, perché davvero, è una cosa che, di fatto, si repercutiva molto sulle persone che hanno le cose dite pre-existing conditions. non so. Ora, già negli anni 90 si iniziava a parlare, in realtà, ormai dopo la fine della guerra fredda, probabilmente, quindi non c'era più il rischio, letteralmente, la rivoluzione marxista che arrivava in America. Esatto, esatto. Non dovevano vincere più contro l'Unione Sovietica, sì, sì, sì. I Clinton iniziavano a parlare, soprattutto Hillary, no? Ovviamente. Della sanità pubblica, come in Europa, come era appena stato fatto in Canada, per esempio. Che comunque, cioè, gli americani vedono come sistema assolutamente socialista, ma per noi è ancora, cioè, non dico più blando del nostro, ma quasi, cioè... Beh, sì, sì, cioè, quello originario di Hillary, sì. Quello adesso di... No, si parla di quello canadese, intendo dire. Ah, sì, sì, sì. È diverso, nel senso che, anziché pagare, come facciamo noi, tipo i salari dei dottori, loro pagano gli ospedali che sono privati. Sì, esatto. E comunque è ibrido anche loro, il loro sistema. È un sistema super... Questa è importante la differenza, perché, è vero, quello è un sistema quindi che è un po' più ibrido del nostro, ma, cioè, nel senso, è una cosa che non è necessariamente una scelta peggiore da loro, ok? Perché dipende da... No, 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 non faccio questo discorso, faccio il discorso che per gli americani, in proporzione, anche i canadesi sono visti come quasi... però è importante capire che il nostro sistema, che non è quello usato per esempio dalla Germania, sì, sì, esatto, è un sistema superiore, perché appunto è l'ospedale pubblico, questo può esserlo. Il problema principale dell'assicurazione in America è appunto il problema che le persone sono fregate, perché o non possono, non riescono a pagare, però che ragione? Chiaro. E o sono ti offregati per un milione di altre ragioni che esistono. Chiaro. Su questo punto, perché, se tu vai a vedere in America, i prezzi, non so, la sanità che pagano gli Stati Uniti, ok, come percentuale delle PIL, è un qualcosa tipo il 16%. Sì. È molto alta, perché quella, per esempio in Europa, è tipo l'8%, giù di lì, poi varia un pochino evidente, ma è molto inferiore, circa la metà. Nonostante ciò, se tu vai a vedere i dati, cose come l'aspettativa di vita, sì, in America è più bassa. È molto più bassa. È più bassa per praticamente ogni categoria. Sì, sì, sì. E non solo l'aspettativa, ma anche la qualità proprio, da un punto di vista delle figure. questo dipende dalla sanità. Se hai soldi, se hai soldi, ok, è un trattamento, cioè, perfetto sicuramente, ma questo anche in Italia, questo è il punto che, credo, molte persone non capiscono. Sì. Perché alcuni americani non si preoccupano del fatto che, beh, se la sanità pubblica, allora il governo che decide, non so, se finanziare un farmaco, cose del genere, se, non so, se rende pubblico, gratuito un farmaco, o se rende gratuito, non so, una terapia particolare, o cose del genere, che è vero, il governo, nei paesi che, appunto, pagano per le terapie, decidono loro, se qualcosa vale la pena di finanziarlo. Chiaro. se fosse una pillola, che sì, ti fa vivere un anno in più, ma costa, non so, un miliardo, cioè, non è una cosa che, efficiente, cioè, non è una cosa che si può fare, semplicemente niente, ok? E purtroppo, è una cosa semplicemente, non esiste. Ma il problema è che, questo esiste già in America, solo che, esatto, povero. Esatto, sì, che è il sistema che attualmente è, se sei ricco, già di fatto, hai accesso a tutto quello che ti pare, e anzi, in America, forse, è pure accesso a un po', cose un pochino più, cioè, un po' superiore, perché, alla fine, nelle fasce più alte, hai dottori, sono più specializzati, cose del genere, perché attirano molti indiani, molti dottori, cose da quelle zone, quindi, hanno una concentrazione di dottori, anche, più alta della nostra. Però, in termini, delle fasce medio-basse, ma anche di quelle medio-alte, in realtà, e, si finisce che, se, hai un sistema, come, non so, quello, americano, di fatto, buona parte della popolazione, non sarà, non avrà l'assicurazione. Ora, c'è un, due ragioni, per cui, una parte della popolazione, non è l'assicurazione. Una, che può anche essere accettata, nel senso, per esempio, sono molto giovane, che ha un alcol, un rischio familiare, per una malattia, che decide di non, fare l'assicurazione, e non so, restamare i soldi, o, spendere in alcol, per la fine del mondo, cioè, nel senso, ci sono, è una scelta, che si può fare, in linea di massima. Non sarà libero. ma, a parte il fatto, che, ovviamente, questo, in molti casi, si traduce nel fatto, che c'è una malattia scoperta, a 20 qualcosa anni, non puoi più coprire l'ascurazione, perché nessuno ti vuole coprire, perché hai questa malattia, che richiederà una spesa, quindi sei fregato per la vita. questa è una cosa che accadeva, e accade anche tutt'oggi, purtroppo, ma il problema, la parte della popolazione, invece, che voleva avere un'assicurazione, ma di fatto non poteva, perché, le altre spese, erano troppo impellenti, cioè, parliamo di cose, tipo l'affitto, no, il cibo, cose del genere, e in alcuni genitori uniti, questa situazione, è davvero così grave, dobbiamo capire, di fatto, questi erano, erano forzati, a, appunto, dover rifiutare le ambulanze, se vengono chiamate, perché altrimenti, se poi andavano con l'ambulanza, non è che non li curavano, questa è anche una cosa, che molte persone, non comprendono bene, non è che, non è che, se, non so, ti hanno le carte di credito, dicono, il meme famoso, ti uccido, cioè, esatto, il meme famoso, in cui rompe la carta di credito, e inizio a tirare poi la pistola, e così, e ti curano, ma, dicono, va bene, adesso ci devi 10.000 euro, sì, e ovviamente, la fregatura è che, tu, cioè, non è che è come, non so, comprare un'auto, tu non puoi dire, no, io voglio andare in un altro ospedale, quando sei semicosciente, che stai per morire, chiaro, tu vai in un ospedale, non sai dove ti stanno portando, se ti coprono con l'assicurazione giusta, esatto, e sì, sei fregato, perché, puoi avere l'assicurazione, ma non ti coprono in quel territorio, per dire, e alla fine, cioè, se mi chiedi, devi pagare, adesso, 20.000 euro per qualcosa, e questo è nei casi, nei casi migliori, perché, certi interventi, richiedono centinaia di migliaia di euro, per essere, che dollari, vabbè, insomma, ma basta un incidente, ah, è vero, sì, però basta un incidente, che ti abbatte sostanzialmente, tutta la carriera personale, fino a, ti ritarda ogni cosa, praticamente, perché, se devi già pagare, per esempio, non so, i tuoi debiti studenteschi, debito studentesco, esatto, che è un'altra grande problematica, l'unica è dichiarare, banca rotta, sì, sì, che è infatti quello che accadeva, e accadde oggi, molte persone, negli Stati Uniti, nelle zone, dove, appunto, non c'è alcuna sicurezza, ed è una cosa, terribile, perché, dichiarare banca rotta, vuol dire che, essenzialmente, non avrai più possibilità, di avere un mutuo, o meglio, se avrai un mutuo, a 20% di tasso di interesse, che devi, tipo, sgozzarti, per 20 anni, per pagare, ma, è una cosa, che semplicemente, tu un giorno, sei una persona, modello, fai una vita, tipo, hai studiato, hai fatto tutto quello che devi fare, ti trovi una malattia, sì, e sei fregato, non hai alcuna possibilità, di salvarti, in alcun modo, una condanna salutare, diventa una condanna economica, e il bello, è che, ripeto, anche se l'assicurazione, quindi sei una persona, che comunque poteva permettercelo, se l'hai fregato, perché se eri in un ospedale, che non, non prendi l'assicurazione, o c'erano mille altre, postille, che potete immaginarli, tu non, non potevi fare nulla, riguardo, perché non potevi dire, no, aspettate, non curatemi, beh, oddio, forse potevi farlo, però, cioè, lasciate dal suicidio, sì, esatto, in quel momento lì, credo che tutti ci dovremmo chiedere, come saremmo in quel momento lì, quanto coscienti, e quanto pieni di noi, del nostro coraggio personale, ma, tra l'altro, qual è, se mi puoi spiegare, il cambiamento radicale, che c'è stato, Medicare for All, rispetto al Medicaid, degli anni 60, che cosa cambiava? Sì, è importante capire che, Medicare, è la misura, per gli anziani, sopra i 65 anni, copriva tutti, copre, tutt'oggi, nonostante i tentativi repubblicani, porto oggi tutti gli individui, sopra i 65 anni, irrespettivamente dal reddito, o altre cose, poi in realtà, ci sono tipo, delle clausole, tipo, che sono un po' assurdi, che ti prendono la casa, se hanno pagato un certo cifra, vabbè, la champagne, americani, ma, e, la differenza tra il Medicare, e il Medicare, mentre il Medicaid, era quella appunto, per l'azione di gente, che parlavo prima. Ok, ok. La differenza tra il Medicare for All, che è la proposta di Bernie Sanders, per esempio, e altri democratici, Sì, scusami, volevo dire l'Obamacare, ho detto Medicaid, esatto, il Medicare, per esempio, il Medicare, per 65, ma per tutti, quindi, sono una sicurazione, senza pubblica, come quella che c'è in Europa, anzi, è un po' più estensiva, comunque, dunque, l'Obamacare, invece, appunto, inizio nel 2000, dopo quasi 15 anni ormai, che si provava a riformare il sistema interno, negli anni 90, con la Clinton, sì, europei, Obama decise di prendere una proposta, che ironicamente era nata dall'establishment conservatore, ossia, anziché fare un sistema sanitario come quello in Europa, essenzialmente, estendere la logica dell'assicurazione delle auto, a quella sanitaria. Perché l'assicurazione delle auto, hanno molti gli stessi problemi, no? Però, ovviamente, non hai scelto se acquistare un'assicurazione di auto o meno, e perché è questo? Cioè, non hai pensato, perché in effetti uno potrebbe pensare, vabbè, se uno non ha l'assicurazione, dovrà pagare, però il problema è, è sì, non potrebbe essere per l'interazione, magari, in un incidente fra persone. Eh sì, questo ovviamente sarebbe una cosa, sicuramente, logica, ma c'è anche un'altra questione, che se si potessero assicurarsi tanto delle persone che volessero assicurarsi, no? Questo implicherebbe che buona parte delle persone con l'assicurazione sarebbero, per, ovvio è un'altra di queste cose, persone che sono a rischio di fare incidenti. Ok. Perché, se hai l'assicurazione, vuol dire che devi farmi un'attenzione, sì, poi uno dice, vabbè, vai a fare un incidente, perché fai così, ma, in realtà, pensate che, una persona potrebbe guidare un'era magari più spericolata, perché sa che, se impatta qualcosa, poi c'è l'assicurazione che lo copre. Sì, 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 sì. E, ovviamente questo, però, come hai detto, è più che altro dovuto al fatto che, come hai detto tu, no? Ci possono essere problemi, perché, eh, io l'assicurazione, tu non ce l'hai, esatto, io faccio un incidente, per dire. Sì, è vero, sicuramente questa è la ragione principale dell'epoca, ma, ha anche un beneficio secondario, ok. Ossia, ridurre i costi, per l'assicurazione, perché, ora, le ascurazioni, per esempio, sulle auto, sanno che le persone che ascurrono loro, non sono soltanto persone che, magari, guidano un po' peggio, ma sono tutte le persone che hanno un'auto. In questo modo, l'idea di questa proposta conservatrice, era di far pagare tutti, anche appunto il ventenne che sta bene, non ha alcun problema, per, in un certo senso, sussidia le ascurazioni, e fargli, e obbligarli, a coprire anche le persone, che avevano, per esempio, delle condizioni, che non era lucruoso coprire, quindi delle condizioni preesistenti, quindi non volevano, non volevano assicurare, perché ovviamente era una spesa assicurata, per loro. Chiaro, chiaro, ok. O anche persone, per esempio, magari con, non so, altri problemi cronici, che quindi, li andava, li andava più successibili ad altre, ad altre patologie, che hanno il suo problema, poi alla fine dei conti. Questo perché? In questo modo, tu avresti praticamente, l'obbligo, per l'ascurazione sanitaria, di coprire, le condizioni preesistenti, ma non avresti un incremento dei costi, perché ovviamente, se devi scoprire delle spese, si aumentano i costi, aumentano anche i prezzi, per le altre persone, quindi, serve un incremento dei prezzi pesanti, se le scuole non vissero scoprire, per forza, persone che si escono soltanto, quando hanno un problema, sarebbe troppo facile. Di conseguenza, ne è nato, ne è nata l'idea dell'obbligo, che veniva chiamato individualmente, se non mi ricordo male l'inglese. Sì, 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 esatto. Ora, ci furono molte diatribe su questa cosa, il fatto sta che, nonostante la prostituzione di Obama fosse più o meno letteralmente quella conservatrice qualche anno prima, per non spaventare i moderati, in realtà è quella che aveva fatto Romney nel suo stato, in Massachusetts, qualche anno prima. Sì, e fa molto ridere pure quest'altra cosa, esatto. Poi ovviamente il numero 12 è un'area un po' diversa, ma vabbè. Vabbè, sì. E, nonostante questo, ci fu una grande supposizione nel Senato, e alla fine, ma alla fine, grazie a una maggioranza incredibile che avevano all'epoca, tipo avevano il santo per cento dei seggi alla Camera del Senato, esatto, tra le due cose. Obama aveva una maggioranza nel suo primo termine molto molto ampia. Sì, sì, almeno fino ai primi due anni, proprio. Esatto, esatto. E poi, come tutti quanti i presidenti. tra l'altro, ci fu una cosa assurda perché tipo una persona era morta e stai impostando una roba Ah, sì, sì, sì. Una roba fuori testa, verso l'America. Comunque. Per vincere la filibuster. Esatto, esatto. Che, per riassumere, la filibuster è praticamente quella legge che fondamentalmente permette una specie di ostracismo da parte del partito avversario nel caso che questo abbia una minoranza, sì, ma una minoranza risicata ed è una legge che è nata nell'Ottocento per costringere a far collaborare i partiti visto che il sistema partitico americano è molto, si basa in teoria sulla collaborazione ma praticamente con la situazione politica attuale dopo tanti anni è diventato invece il modo in cui l'altro partito se non ha la maggioranza assoluta anche abbastanza larga metà delle leggi possono essere bloccate fondamentalmente da parte del partito che ha una minoranza risicata ma ce l'ha bella e intensa infatti con Obama ci fu questo caso qui soprattutto nella prima parte del mandato perché anche lei si univano le due cose il fatto che lui avesse la maggioranza ma che avesse anche le elezioni di midterm dopo due anni che potevano fargli raccalare cosa che tra l'altro succede molto spesso per dire Biden attualmente esattamente quello che è successo anche all'epoca tra l'altro infatti si fece questa corsa è incredibile comunque e quindi praticamente si americano dopo il 2008 essenzialmente quello fino al 2017 in realtà poi parlo tra un secondo era essenzialmente dove ero obbligato ad avere la scurazione perché in teoria poteva anche una vela ma ti potevano pagare tipo 3000 dollari al mese in tasso c'era una roba oscea si si ti costringevano proprio a forza esatto poi arrivò eh sì praticamente questa fu una bella idea di Obama no? ci furono molti incrementi anche tipo nel benessere ci sono molte storie al riguardo ora questo era per le persone sopra c'era la scuola di povertà non mi ricordo bene i numeri ma penso tipo il 140% della scuola di povertà sì che erano coperte da queste scurazioni che non potevano rifiutare appunto le persone con pre-existing conditions e che erano sostituate dal governo federale sì sì è lo stiamo estremamente complicato quindi non sto qui a dare né di sì ti obbligo ma te lo pago io ma una cosa interessante che molte persone non sanno è che in realtà un'altra parte di Obama dell'Obamacare l'espansione del Medicaid non soltanto le persone che erano tipo povere madri con figli e disabili per esempio questa è una persona che erano coperte con il sistema venessero tutte le persone che erano appunto povere essenzialmente quindi tu se sei povero in America in certi stati non devi avere l'assicurazione perché c'è lo stato che li copre sì ma in alcuni stati repubblicani si decide di non procedere in questa espansione quando sali sopra Trump nel 2016 questo in realtà è venuto dopo credeci o meno questo è venuto prima perché nel 2012 si fu una decisione della Corte Suprema che rese la decisione di espander il Medicaid opzionale ma non la parte sull'essere obbligato per l'assicurazione con i sussidi così ah ok di fatto questo vuol dire che ci sono persone in America in alcuni stati in stati che non hanno appunto fatto questa espansione Medicaid dove persone sono troppo povere per avere aiuto al governo dobbiamo prendere l'assicurazione a prezzo pieno perché non neanche sussidi che hanno ah ok piuttosto che fare ok esatto esatto geniale e sono altrimenti sono stati fregati malamente ma questa paura adesso parentesi prima di arrivare al Medicare di proposto da Sanders e dall'Ocasio questa ossessione degli americani di non permettere visto che il sistema poi è fondamentalmente un sistema ibrido ma fatto di tanti fixi o legali che sostanzialmente costringono la gente a non chiamarla tassa per sistema sanitario ma di fatto invece c'è un'assicurazione sussidiata dallo Stato con fondi statali che vengono presi da tasse altrui è una cosa che si è obbligato a pagare che lo Stato restituisce un momento è diverso non è proprio capito completamente diverso non è socialismo sì esatto perché questa costrizione di voler evitare questa ma chi può dirlo i repubblicani aeroplane c'era di più probabilmente perché avevano le assicurazioni c'era più privato non so cosa dire onestamente non ha alcuna logica perché ogni cosa brutta ha gli stimoli di assicurazione gli assicurazioni di stimoli potenti pagare che hanno problemi assurdi i costi di amministrazione che sono più ampi perché non sono più decentralizzati è anche molto più complicato proprio burocraticamente per l'anno ma almeno c'è lo Stato quindi non è letteralmente l'Unione Sovietica esatto almeno esatto e un'altra cosa però questo fino in realtà nel 2017 perché quello fu l'anno in cui eliminarono la penalità per non avere l'assicurazione quindi fatta adesso l'individual mandate che i republicani odiavano così tanto non esiste più quindi i republicani hanno provato a sabotare la maquer appunto togliendo il sistema che permetteva appunto all'assicurazione di coprire le persone con condizioni per gli esistenti ora questo non ha funzionato in realtà perché comunque c'erano queste persone sane che volevano assicurarsi che non c'è stata questa corsa verso persone sane che disurrono l'assicurazione quindi aumento dei costi per i malati cioè un collasso del sistema come si temeva una cosiddetta death spiral però c'è un aumento dei prezzi molto alto penso qualcosa di intorno al 10% come si pensi per i prezzi poi americani sono ancora di più esatto questo tempo per i poveracci che erano costati a fare assicurazione quando tipo erano troppo poveri perché te l'aiuta il governo sì che poi tra l'altro i prezzi è così viziato il sistema che i prezzi dei farmaci stessi anche singoli che da noi costano qualcosa di ridicolo cioè comunque sono soldi alta costano una stazione sì sì lì parliamo di cifre che si aggirano tranquillamente su 10 volte addirittura 100 volte i farmaci europei o dei sistemi comunque sanitari funzionanti che non è una cosa necessariamente sbagliata se coperto dallo Stato perché ovviamente la questione dei farmaci è sempre una questione che devi stare un po' attento perché c'è la questione del brevetto del monopolio alzano i prezzi molto in alto però come fai in Europa per esempio ci mettono i limiti dei prezzi per evitare che ci siano speculazioni o cose del genere in America favoriscono dare soldi alle escurazioni cioè alle case farmaceutiche questo è un approccio che può anche essere in certi casi perché è un approccio che dà in realtà un po' più di ricerca farmaceutica è inevitabile questo sì è vero però il problema è che poi dopo ti ritrovi situazioni come per dire quella di Bernie Sanders che portava con i Pullman dal Vermont i vari elettori a prendere l'insulina in Canada perché costava infinitesimalmente di meno e tutti quanti i malati di diabete tra l'altro c'erano persone che non potevano dire vabbè dai posso pensare di non prenderlo per un po' e poi dopo farmi una terapia differente capito immagino tu sei uno strano repubblicano sei povero troppo povero perché darei i sussidi del governo a superazione e devi pagarti l'insulina di tasca tua ovviamente i piani di escurazione americana tra l'altro hanno tutte queste robe tipo hanno frazioni che devi pagare tu hanno limiti su quanto puoi pagare l'escurazione cose del genere quindi in realtà se prendi i piani che uno dice ah beh puoi scelgerti i vari piani puoi scelgerti il piano meno costoso ma in realtà se vai a vedere il piano meno costoso è quello che ti fa pagare il 90% dei costi sì sì esatto la libertà di mercato forse è dovuta anche questa loro mentalità di essere così legati a voler sempre essere slacciati dal qualsiasi maglia che lo stato centrale potrebbe mettermi applicarmi perché non sia mai che io debba pagare obbligatoriamente qualcosa io posso decidere di colpo di abbandonare tutto e andarmene via insomma Jackson se io decido di non essere assicurato contro non so la polmonite e viene la polmonite questo è un mio diritto esatto è il mio diritto di morire di polmonite lasciatemi vicino ad un non so in un qualche buco che questo ricordava una giustificazione storica diciamo di questo fenomeno sociale statunitense tipico statunitense Francesco Costa il giornalista del posto che studiava molto l'America diceva è molto legata probabilmente all'idea del destino manifesto che avevano cioè l'idea di andare gli americani hanno avuto l'espansione storica dal da quello che è attualmente la costa est fino alla costa ovest tramite il destino manifesto cioè questa visione di inseguire l'orizzonte terre aperte e praterie gigantesche e quindi tutto quanto il mito esatto il mito dei cowboy il mito dei non c'è nessuno lì esatto e loro sono infatti degli stati la maggior parte degli stati americani si è formata prima dell'arrivo dello stato federale cioè si sono formati prima lo Utah e poi dopo è arrivato l'esercito americano i stati americani quindi per loro l'idea di avere prima un sistema loro personale individuale o quantomeno di comunità piccola distretta e poi un sistema generale statale forte è fondamentale cioè loro dicono prima arriviamo noi in quelle zone lì nonostante il fatto che a me non possono dirsela come vogliono ma alla fine senza l'infrastruttura dei sussidi americani non si avrebbe fatto nulla di queste robe sì sì è vero perché ovviamente penso anche all'impatto che ha avuto su appunto questo questo manifesto l'invenzione dei treni di cose del genere esatto però loro credono che visto che l'ha fatto una compagnia come quella dei Carnegie o una compagnia comunque americana importante ha aiutato a finanziare questa espansione delle ferrovie per dire allora vuol dire che sempre si è salvato il capitalismo la libertà di imprese e tutto quanto e allora io americano ero libero anche di non prendere il treno per andare da costa a costa inoltre mi piace che il judge federale diciamo come si può dire sfrattava le persone che c'erano già lì sì esatto sì esatto i sfrattati in questione sarebbero i famosi indiani d'america poveretti ma non è una concezione di proprietà sì è vero poi non gliel'hanno mai chiesta però è quindi rubare va bene sì sì esatto esatto poi d'altra come puoi rubare una persona che dice che io non gli sto rubando un'altra questione che in realtà è quasi identica ai problemi che avvengono appunto sia con la appunto con la logica dell'estero manifesto appunto con la storia che si dicono e con la scuola sanitaria è il loro sistema di ID nazionale cioè il loro carto di identità puoi spiegarmelo per andare a chiudere su questa cosa qua che è completamente collegata è la cosa più palesemente assurda di questa logica dunque in america non c'è la carto di identità nazionale neanche di statale in realtà ok magari c'è qualche caso non so di fatto se tu chiedi un modo per identificare loro ti hanno la patente ma perché questo? cioè non sembra di alcun senso perché? perché loro sono in questo tanto la libertà che pensano che un sistema nazionale per l'identificazione delle persone sarebbe una cosa tipo da tirannia ok ma di fatto ovviamente il governo deve sapere chi deve essere tassato per dire o chi deve essere aiutato in qualche modo o chi deve essere coperto anche dall'assicurazione sanitaria quindi in realtà utilizzano come sostituto il loro codice che si chiama codice la sicurezza social beh comunque security number che praticamente è un po' il governo del loro codice fiscale sì 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 è vero ma più o meno è tanto difficile da scoprire di una persona a casa per dire e non solo è utilizzato il governo federale per cose anche abbastanza importanti tipo le tasse e così ma anche da istituzioni o banche cose del genere e nonostante sia un sistema che è incredibilmente meno sicuro di quello per esempio di quello che c'è in Europa o in qualunque altro paese perché non c'è se vado a vedere alcune foto di queste carte non c'è alcuna non so alcuna foto alcun sistema di sicurezza particolare infatti il mito del ragazzo che si fa la fake ID per andare al bar al pub a bere l'alcol cioè io l'ho visto solo in America da noi come faresti a fare una cosa del genere ma in realtà è ancora peggio perché questo numero di fatto è facile da immaginare ci sono stati moltissimi casini per questo perché se una persona ha questo tuo numero può fingerci te molte cose soprattutto nei periodi precedenti al mondo moderno ovviamente c'è un po' più di informazioni sì sì che posso chiamare almeno qualcuno che può confermare però pensa questo durante la guerra fredda i sovietici trovano persone che erano morte tipo con numeri appunto security number e lo utilizzavano per fingersi americani bellissimo in America solitamente la serie tv america perché è una cosa che serviva praticamente e finse una cosa del genere tipo in Italia ed era una cosa che era fatta se andate a vedere dei film di spionaggio vecchi questa è una cosa che a volte veniva citata ha trovato qualcuno che era morto da giovane in una famiglia hanno stimato perché fondamentalmente è legato a questa visione esatto era analogico quindi era molto più difficile vedere chi stava dicendo bugie chi aveva controllare le cose doveva andare a controllare le carte potrebbe avere un sistema quindi hanno un sistema in realtà di carta internazionale loro vorrebbero solo che fa schifo loro potrebbero avere qualcosa però scelgono attivamente per avere l'estetica della libertà si ah tu lo definisci così estetica della libertà esatto è questo perché alla fine qual è l'altra logica potrebbe avere questa cosa è ragione perché non è che non lo viste una carta internazionale la mercadista è questo affare solo che fa schifo bellissimo è una bellissima definizione l'estetica della libertà in realtà appunto l'assicurazione sanitaria pubblica esiste già in buona parte a meno che non siamo un depoveraggio che è uno struttore pubblicano però è legata agli stati singoli e non quello federale è legata cioè poi adesso non esiste neanche più perché non ci puoi obblighi di pagare in realtà ma è legata appunto a questa estetica sì sì perché tu non è che non è che tu paghi il governo che pagano i dottori no tu paghi i dottori direttamente con i soldi che ti dà il governo tra i sussidi quindi è diverso non hai capito come funziona completamente pazzesco beh ti ringrazio tantissimo per tutta questa escursus sull'assicurazione sanitaria sul sistema sanitario americano c'era molte cose da dire ovviamente però capisci è complessissimo e ci si potrebbe parlare per ore e ore senza visto che poi tra l'altro è l'argomento di ogni campagna elettorale in America praticamente ti dico solo che c'è una ragione se alcune persone hanno fatto i conti poi hanno detto se io vado negli Sti Uniti in Europa faccio curare poi tornano negli Sti Uniti risparmio o anche gli custodieri risparmio e non ne metti più sì è vero è vero è una cosa incredibile ovviamente non possiamo almeno immaginare una cosa del genere beh niente ti ringrazio per essere venuto e noi ci rivediamo alla prossima puntata grazie 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 grazie